ciao a tutti mi trovo in un condominio dove hanno appena finito di fare i lavori del super bonus 110 ecco vi faccio vedere una cosa sono nel garage di questo condominio e hanno messo in tutti i sei garage la presa la vedete qua adesso vi faccio vedere per caricare le auto elettriche quindi vi ricordate un anno più di un anno fa due o tre anni fa che facevo i primi video che era uscita la legge del super bonus 110 che vi avevo detto appunto che mettevano anche le torrette ecco questa non so se si chiama torretta però è una presa per alimentare e caricare ve la faccio vedere anche qua vedete le auto elettriche ecco con il suo figlio e questo qua in futuro se una persona più avanti si prende l'auto elettrica qua c'è da la presa dopo non so se sono universali per tutte le auto non me ne intendo però questo è rientrato nel 110 nel super bonus 110 quindi nel prezzo totale in questo condominio mi sembra che hanno dato 10 sui 10 mila euro a testa per ogni appartamento per aver fatto il fotovoltaico sopra il capotto termico di tutta la casa hanno cambiato le caldaie le caldaie le hanno messa gas hanno fatto questi lavori qua e praticamente hanno fatto un sacco di lavori quasi tutti diciamo gratis perché dopo ci sono stati quei 10 mila euro a testa da mettere per lavori in più ecco spero di avervi dato delle informazioni utili io vi saluto ciao a te o a te ciao a te o 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 a